quindi hai pagato o non hai pagato? non hai pagato ragazzi perché sto troppo ad un livello superiore per abbassarmi a fashion e ha milioni di denunce, non fa fatture ma di cosa stiamo parlando? buongiorno ragazzi, eccomi qua io mi sono ripreso dopo ieri, sto benissimo ho donito poco perché non ho fatto altro che leggere tutti i vostri commenti mi sono morto dalle risate, voi non avete idea le cose che avete scritto grazie innanzitutto per il supporto che mi avete dato eravate tantissimi che avete visto la trasmissione ieri grazie anche per il verde e per il rosso quindi top 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 e una cosa però voglio precisare ragazzi voglio dire che quando le extension mie che metto io erano gratis erano perfette, erano bellissime, erano pazzesche si chiama top, robe di sto genere, vi lascio solo immaginare quando invece si pagano fanno male i capelli le capelli e comunque la qualità è di bassa qualità ma la mia domanda è un'altra allora, ma se uno ha messo una fila e poi mi vengo contattato per mettere la seconda quindi significa che la qualità era bella? e quindi dicevano uno invece l'altra persona, l'innominabile secondo me allora ragazzi, la mia domanda invece è quest'altra allora, prima non ha pagato perché gli era arrivato il conto una volta qua quando io poi ho tutto salvato e poi mi farò vedere presto e prima questo quindi non ha pagato poi dopo ha detto che aveva pagato quindi hai pagato o non hai pagato? non hai pagato ragazzi visto che mi state avvisando in tantissimi perché io non seguo da una vita fashion style e nemmeno guardo niente delle sue cose di Instagram mi state avvisando che lui ovviamente tira l'acqua al suo mulino io ho una marea di testimoni che pago anche l'aria che respiro e la pago anche agli altri quindi sono famosa per aver aiutato una marea di persone a vivere non vorrei più parlare del nulla non vorrei più parlare dei fenomeni di baraccone perché sto troppo ad un livello superiore per abbassarmi a fashion quello là insomma capite? a nessun VIP ho chiesto di fare video come sta facendo la parte del circo non mi serve basto da sola e comunque volevo concludere dicendo donne ragazze se volete dei capelli davvero top pazzeschi delle extension uniche piene di reali fili di oro celati dal capello rivolgetevi a fashion mi raccomando prezzi scontati dopo ieri sera e quando poi questi personaggi percepiscono soldi cash in mano ovviamente inventano cazzate ma non è che lo ha fatto solo con me lo fa con milioni di donne e ha milioni di denunce non fa fatture ma di cosa stiamo parlando? ma io no vi chiedo di cosa stiamo parlando di show è show allora ok è show che cosa stiamo parlando? che cosa stiamo parlando? che cosa stiamo parlando?